L'omicidio di Ciro Marina, l'omicidio di Antonella Lettieri, uccisa barbaramente, lo ricorderete, nel giorno della festa della donna, l'8 marzo. C'è un colpo di scena nella vicenda, perché Salvatore Fuscaldo, il vicino di casa, ha confessato il delitto. L'uomo era stato arrestato alcuni giorni dopo l'omicidio, ma ha sempre respinto le accuse. Adesso, nel corso dell'interrogatorio in carcere a Castrovillari, ha raccontato la sua verità. Una ricostruzione, però, che non convince del tutto gli inquirenti. Sentiamo il perché nel nostro servizio. Era l'unico indagato per l'omicidio di Antonella Lettieri, la 42enne di Ciro Marina, uccisa nella sua abitazione l'8 marzo scorso. Salvatore Fuscaldo era stato arrestato alcuni giorni dopo il delitto, ma aveva sempre respinto le accuse. Adesso la svolta ha confessato. Nel carcere di Castrovillari, dove si trova attualmente detenuto, ha raccontato la sua verità davanti al sostituto procuratore di Crotone, Alfredo Manca, che l'ha interrogato insieme ad alcuni ufficiali dei carabinieri e alla presenza degli avvocati che fanno parte del collegio difensivo. Fuscaldo ha parlato per quasi due ore, ha detto di aver colpito Antonella con un tubo d'acciaio e un coltello a serramanico e di aver fatto tutto da solo. Ha raccontato agli inquirenti che con Antonella aveva una relazione sentimentale che andava avanti da anni e di averlo uccisa perché si sentiva ricattato. Salvatore Fuscaldo è un uomo sposato, temeva che lei raccontasse di quella relazione clandestina. Quella sera però avrebbe ucciso la donna dopo l'ennesima richiesta di denaro. Lui, che a stento sbarcava il lunario con la sua paga da abbracciante, le pagava, questo il suo racconto, bollette, bollo auto e altro ancora. Agli inquirenti ha descritto quanto accaduto quella sera. Aveva le chiavi di casa di Antonella Lettieri. Dopo averlo uccisa ha preso la sua auto, l'Alfa 156, dove sono state trovate le tracce di sangue della vittima che hanno portato al fermo. Prima di rincasare è passato dal vigneto in cui lavora lanciando dal finestrino le armi utilizzate, gli scarponi e la tuta insanguinata. D'entrato a casa ha raccontato di estersi lavato in magazzino e poi sarebbe andato a dormire. La mattina dopo è andato a prelevare gli abiti sporchi di sangue e li ha bruciati, ha recuperato le armi e le ha sotterrate. Questo dunque il racconto fatto da Fuscaldo, che però non ha convinto del tutto gli investigatori. Le sue dichiarazioni, ha detto il comandante provinciale di Crotone dei Carabinieri, il colonnello Salvatore Gagliano, sono oggetto di attenta verifica perché il racconto presenta molte lacune, anche se non sta coprendo nessuno, ha sottolineato il colonnello perché tutti gli elementi di prova raccolti sono a suo carico. Bisognerà adesso chiarire e verificare alcuni aspetti riguardanti la dinamica e il movente dell'omicidio.